Benvenuti di nuovo nella mia umile dimora signori, la mia umile umile dimora con i miei gatti, i miei preferiti, lui è Frank, lui è Frank 2, Frank 3, Frank 4, Frankina 5. Oggi qui si sta tentando di fare qualcosa di alquanto epocale, cosa stiamo facendo? Costruiamo la cura per il diafetta. Lo dico io cosa abbiamo fatto, io e Andre l'altra volta sul mio canale abbiamo fatto una torta, lei continua a dire io e Andre, però io faccio e lei non fa niente. Ok, ho fatto una torta salata seguendo una ricetta, adesso la stiamo inventando. Questo non è quanto pericoloso. No, no, io apri i cioccolatini. Che c'entrano i cioccolatini? Non ho capito. Ma non è la torta. Ma è una torta salata o dolce? Non ho capito. Ma se ci vanno i cioccolatini non è salata. Non ci vanno i cioccolatini. Ma perché? No, è una torta di spinaci. Ma tu mi hai detto di aprirli. Non ce l'ho detto. C'è il video che dice di sì. Sì. Io apri i cioccolatini. Bravo. Ok. Allora, io ho capito che Giulio deve tritare i cioccolatini, perché? Ma non è vero. Sì. Con la bocca. Eh, va bene, li trito. Giulio deve premasticare i cioccolatini. Ammorbidirli, sì. Ammorbidirli in quanto abbiamo tutti i problemi. Non mi deve ammorbidire un cioccolatino. No. Allora, Feo, se vuoi esplicare, stavolta ne la facciamo sia di spinaci che di zucchine, col prosciutto e salame. E il cioccolatino. E il cioccolatino. Quindi tu che cosa stai facendo? Precisamente non lo so. Sto cuocendo gli spinaci e le zucchine. No. No, la chiamiamo torta dei maize. Dei maize? Dei maize. I maize che sono un marchio registrato nuovo. Siamo noi, io sono Steppi. Io sono Animo. Tu chi sei, Andre? Tu sei Sorri, comunque. Tu chi sei? Il nostro grande capo? Vagas. Papà Vagas. Ma Sorri non era Sorri? Posso avere delle conoscenze? O più che altro, per chi la vuole fare a casa. Quali sono gli ingredienti e le proporzioni di questi? Ve le dico io. Più o meno è una vagonata di zucchine, un secchio di spinaci. Per ora, quindi segnate nel vostro post-it questo, quello che è necessario per fare questa ricetta. Altri ingredienti che stai per buttare? Sì, allora, prima tolgo l'acqua, perché è una ricetta che dice di mettere in Filadelfia. Noi non ce l'abbiamo, quindi mettiamo la linea senza lattosio. Quindi, ricapitolando, una vagonata di zucchine, un secchio di spinaci, cos'erano? Non lo so. È un qualcosa di formaggioso. Losella. Losella. Che poteva essere Filadelfia, ma per scelta tecnica, voluta. Perché Sasha è allergico al lattosio. Abbiamo scelto questo. Esatto. Uova e che cosa c'è qui dentro? La grana. Uova, parmigiano e questo formaggio qua. Sì. Un gatto per condire il tutto. Zorro, giù. Perché? Zorro, giù. Si chiama Frank 2, comunque. Io mio, quanto cavolo pensi? Andre, con energia, fammi vedere come spalmicci bene quel formaggio. Di più, di più. Ecco, non leccare. Leccare, non leccare. Dai, leccare. Dai, leccare. No, non leccare. Leo, vedete come c'è la ricetta. Non sa l'altro c'è. Quale ingrediente si fa, Giù? Allora, bisogna cercare un tavigliere. Un salame esce fuori dal nulla, attenzione. Sì, perché la facciamo cotto e salame. Abbiamo un salame. Questo è l'ingrediente segreto, che non è più così segreto, che più o meno fa parte di ogni ricetta della Sabri Gamer. Allora, bello tozzo. Così, guarda. È tozzissimo. Sì, perché vogliono tagliarlo a cubetti. Lo fai tipo pancetta, lo fai brustolire, attenzione. No, lo faccio brustolire. Ma come? Ma cuoce nel forno. Ma cuoce nel forno. Vai a vedere la tecnica di Angelo. Che cosa stai facendo? Io faccio cose così sembra che sto aiutando. Oh, attenzione, tira fuori la doppia forchetta. Sotto. È un po' come su Dark Souls 2, che potevano equipaggiare la doppia arma e fare le arti. La ricetta è quella che mangia il salame. Era di più il salame prima. Stai premasticando il salame, Sabrina. Ma quello puoi mangiare, è sottile. È sottile, me ne devo sbarazzare, è il mio compito. Allora, me non penso che no. Guarda che cambiamo i compiti. Quello non è il frigo, Giulio. È il frigo. Cosa sta per esplodere? È che non sapevo far partire il forno, quindi ho spettato dei tasti. Ma come? No, è tutto buono. Quanto cacchio è invitante. Guarda, sembra una frittata letteralmente. Mi dobbiamo andare in bagno. Rai aggiungi nutella abbondante. Vai, vai. Dammi un cucchiaio. Nel caso in cui questa ricetta non riuscisse benissimo a voi, lo potete usare come composto per un vomito finto e rimanere a casa da scuola. Ma guarda, se aspetta un attimo... Lo mettete in bocca, andate nel bagno e fate... Lo buttate tutto nel water e improvvisamente sarete dei malati provetti. Oh la mamita, io stai male. Non c'è un'altra fetta di salame? Ho fame. Tranquillo, dopo questa tua nostra fantastica tutta. Se te ne ti piace? Gira le zucchine e gli spinaci. Giulio, guarda cos'è imparato, Maurico. Faccio vedere cosa ha imparato. Wow, wow, attenzione, attenzione. Neanche uno ne cai, però di più, di più. Non c'è più di più. Scusa, devo controllare due padelle contemporaneamente perché sono uno scherzo. Non ti ha bruciati, non ti ha bruciati gli spinaci. Non era il mio compito, lo hai diventato in corso d'opera. Sabrina, Giulio ha bruciato gli spinaci. Giulio, avevi un compito. No, non ce l'avevo. Non è vero che avevo un compito. You had one job. Guarda, guarda. Guarda. Di più, di più. Ehi, attenzione. Mi fatti saltare. Sì? Sì. E quando saltano che succede? Si balla. Eo, vieni a vedere la seconda faccio. Facci vedere. Siccome non ci piace bella, bella piena, mettiamo anche i cubetti. Cosa ci piace bella piena? La torta salata che stiamo facendo. Ti piace la posizione per girare, Peo? Dio, ma cos'è? Non lo so. Vabbè, comunque vedi il lato positivo, abbiamo un video. Io stai mischiando cubetti di prosciutto al salame? Sì. Perché? La pizza è salumi. Salame di alfattore? Ti vorrei un pezzo di salame. Guarda, lo stia mangiando lei. Stava mangiando e non mi può mangiare da me. Non ha fatto neanche. Vabbia, vabbia. Vabbia, vabbia, vabbia. Assaggio e sentici è buono? Assaggio a tutto. È buono sulla pelle? È buono. C'era una volta una franchina, una piccola franchina, si becca la coccolina, mi, pie, no, no, mie bacina, bacina. C'era un zorrone, piccolo e ciccione, lo chiamavano il re leone, il re leone. C'era un piffolino, era una femminuccia, poi ha aperto le gambe e hanno scoperto che non lo era. Questo è il gattino trans, un giorno era femmina, l'altro giorno era maschio. Signore, che punto siamo? Forza! A me tale è quella prima. Stiamo vedendo se è scaduta la burrata pugliese. La sentire se è scaduta. No, è buona. Ok. Vabbè, devo provarla anch'io, non sa mai che... Però aspetta, non ho sentito bene un sapore. Non so quando. Dormi, mette la coda nella bacinella? Non ho capito, forse c'è una nota di acidità, fammi riassaggiare. Sì, ma lo state finendo? Assaggia, non capisco. Vero, tu cosa dici? Come sentire? Cazzo, c'è buona. Non c'è buona. Vuoi assaggiarla meglio? Sì, va. Fammi sapere se... Ma da dove viene? Questa è la materia... L'ho comprata a viaggiatore con le 5 euro. È la materia di cui sono fatte le nuvole. Mi fa piacere, potete andare con voi. Hai il diabete tu. Arriviamo, Andre. Non puoi mangiarla. È finita? Questa la aggiungeremo? No. Questa è da assaggiare, basta. Eh, va a vedere se è buona. E che vuole assaggiare ancora? Sì, tutta, ecco, ma la donna. Andre, sei pronto? Arriva la verdura? Tempo. La verdura la puoi mangiare, la puoi assaggiare se vuoi. No, grazie. Ma questa è stata nella tua bocca, Giulio. Dai, veloce! A casa tua condividevamo anche lo spazzolino. Ma che sai a dire? Ah, non lo sapevi? Anche le putande. Oh, che cazzo fai te? Non ho troppo il suo fratello, capito? Sare, guarda, ho tirato fuori il gioco. Quello proprio per veri cattivuomini. Dai, forza, forza! Wow, eccolo! Attenzione! Attenzione, qui inizia il miscuglio, quello perfetto per vomito finto. Wow, 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 wow! Eccola, presa! No! Ciao! Leo, la ricetta! La ricetta, attenzione! Abbiamo mischiato la vagonata di zucchine con il secchio di spinaci, con il secchio di vomito, con tutto il resto dei affettati, salumi vari. Quelli almeno che sono rimasti. Visto i diversi assaggi. Non so di cosa parlo. Occhi di ragno. Peli di gatto. Quelli probabilmente ci sono veramente. Sano che non ha già una cosa salvietta. Va un po' imburrata. No, perché in teoria c'è già... In burro. Ma scusa, non usi le salviette per pulire la teglia. Potrei usare le salviette per pulire la teglia. Attenzione, tira fuori la pasta sfoglia fatta in casa. Brise. Fatta. Brise. 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 Fatta poco prima in casa. Una parte non registrata. A caso proprio. Sabrina stende con estrema delicatezza la pasta brise che ha fatto poco prima. L'ultima volta che le ho fatto le mani era l'altro io. Forse prima della fiera. Esatto. Mamma mia, mamma mia. Oh, uno strato di prosciutto? Così per chiudere in bellezza? Ma... Mi ha girato il collo... Lo adagia dolcemente sulla torta. Scusate ma lo iocca sopra ce lo mettiamo? Perché è quello iocca? No, non abbiamo messo no. Ma mettiamoci anche questo, no? Come strato superiore finale. Ci mettiamo dentro i brioschi così digeriamo anche mentre la mangiamo. Due in uno. Il modim così non abbiamo la diarrea. Si vede lo spinaccio. A volte devo venire più con questo. Ah, scusate ma è sparito una febbra. No. Andre? Cosa era quello? Cosa? Che tozze. Sei rotta. Eh vabbè. Uh, 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 uh. Uh, damage, big damage. Se prega Doraemon. A parte che c'è il prosciutto sopra, non c'è. Cosa fai Doraemon? Che stai facendo Doraemon? Doraemon? Io non conosco nessun Doraemon. Io sono Kenshiro. Stupidaggini Doraemon! Chi è questo Doraemon? Io non lo conosco. Ma che sta facendo? Il mio nome è Kenshiro! Io sto ordinando su Deliveroo. Cosa volete? Quindi fai... Cosa voglio su Deliveroo? Quanto tempo ci vuole? Mezz'ora. Mezz'ora. Bambini, segnate. Mezz'ora ed è tutto pronto e noi passerà in pochi secondi. Abbiamo appena finito un video per Cio Giulietto e andiamo a controllare la mitica torta. Raga, spostare, aiuto, need! Ti sto aiutando. Sì, siamo pronti per vedere l'esito finale. La nostra creazione... Creazione non mi sembra una buona parola. Ma adesso ne usa l'incredito. Non mi serve, finati, è per dopo. E BAM! Wow, ma adesso si mangia anche questo. Ma guarda com'è, sembra bella crunchy, crunchy, crunchy. La nostra torta vegana, eh. Creazione. Hashtag VeganLife. Mi ricordo mia madre quando prendeva tutta la roba del frigo che stava per scadere, la mettere insieme e creava qualcosa. Sesso cosa? Stessa d'identificazione. Ma se avessimo fan vegani che vogliono riprodurre con cose sostitifiche, no? È vegano questo? Basta che non ci mettono il prosciutto. È prosciutto di tavolo? Basta che non mettono il prosciutto, il salame, l'altro prosciutto. Il salame, il prosciutto crudo, il formaggio, le uova. Tutto. Non ci puoi mettere niente. In poche parole per voi. Sono vegano, non puoi mettere niente. Anche il sale mi è felice. Non c'è una cosa qua dentro che va bene ai vegani? Le zucchine sì, anche le spinacce. Si è tutto rotto la pasta? Come fai a fare un tortino? Beh, fai solo zucchine. Bene signori, sta per finire la batteria, quindi facciamo l'assaggio. Come è? Buonissima. Sì? Giulio? Io ragazzi ho il dragone volante a fianco. Giulio, Giulio, vai. Buonissima. 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 Non l'hai mangiata? Buonissima è salutare. E anche io. Com'è, com'è? Ordiniamo. Ho mangiato una zucchina, buona la zucchina. La torta è obiettivamente comestibile. Ma non l'hai ancora assaggiata? Porca cazzo, ce l'ho mangiata. Buona. Fate sapere anche voi se la volete fare, se per voi è buona. Fate la vegana. Anche a me piace più. Io mangio un'altra festa. Buonissima. Via. Bene, andiamo. Dai. Addio. Con'è? Fin what? 4 4 4 5 5 5 6 7 7 Connice, 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 connice...